Magari l'altro piccativo, tu con Gragas dovresti riusci a fare qualcosa, ma poi non lo so, eh, non lo so. Eh, Enrico, se vuoi guardala. Minuto a scolare il bronzo 3, Enrico. Devi imparare tu. I am Crit God. Su Ezreal, Crit God? Insomma. Lo stronezzo sul sciacco, zacca, a me non piace. Perché già sciacco c'è la passiva per fare Crit, quindi non vedo come possa aiutarlo uno Storm Razor. Ah, quando la scalata al bronzo? Dici il prossimo Uncut, Onis, alla prossima settimana. Ne registro due così, giusto da sfoltirmi durante la vacanza e poi basta, cioè in genere faccio una settimana. Tanto, alla fine è una specie di Uncut come un altro. Perché tutti questi Ignite? Manca un Exhaust? Contro uno Iaso, un Exhaust? No, eh. Vabbè. Quando facciamo due, Jackie. Che domande. Quando mi dai il culo. Boh, Andrea, adesso non è tanto da... Cioè, Darius viene sempre per Mabannato, l'ultima volta che l'ho piccato era contro Atrox che mi ha aperto il culo. Ma non mi va di giocare top, adesso, soprattutto su sto account, l'unica link che so giocare bene è la giungla. Dark Harvest su Shaco e Gagnoli, sì, soltanto che dopo sei dipendente dal... da quello. Cioè, nel senso, l'Electrocute funziona sempre. Tutti gank, perché c'è un cooldown che è relativamente basso. Dark Harvest, invece, come ce l'ha questa Miss Fortune che... Io non ho mai capito in Botlin, forse perché lo sfrutta in Fight, perché in Botlin non lo sfrutterà mai. Cioè, il caretto è una wave ogni tre. Quindi una volta ogni minuto e mezzo. Insomma, non mi piace tanto. Però... Il late game ci potrebbe stare. Naturalmente Dark Harvest su Miss Fortune l'ha preso per il late game, non credo che il lane lo sfrutti più di tanto. Abbiamo Swain contro Chogat. Non so sinceramente come sarà il match-up. Penso a favore di Swain. Cerchiamo di abusare di Chogat, visto che è un champion immobile. Prima che diventi immortale. Kennen ha preso il TP, cosa che mi piace molto. Anche perché contro Yasuo, cioè... Abbiamo tutti sti Ignite. Su Kennen è buono il TP. Su Kennen l'Ignite no, secondo me. Non mi piace per nulla. Sì, Kaius. Sì, 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 sì. Oh, chi si ribecca! Bella le giampa! Grazie mille, bro, del sub. Benvenuto nella FerixArmy. Anche tu, vecchio mio, mi ricordo bene di te. Cosa ti ha spinto a fare il sub in questa bellissima live? A sostenere questo bellissimo streamer? E qualcuno può anche coverare, per favore? Eeeeee! Eeeeee! Che non lo sapevo. Vai, vai, percatemi quelli. Wow, siete felici? Ciao. No, 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 Fiddlestick. Dove cazzo vai? Fiddlestick! Ma che cazzo di down? Porca. E mi va a hitare il caso, perché questo è ritardato. Ma io non ci credo. Ogni tanto. Poi la gente non co... Ah, ma hanno swappato! Ok. Ora si spiegano tante cose. Niente, è andato un po' puttane l'early game, ma invadere Shaco ovviamente è estremamente facile. Questa box è molto attiva. Ok, eccola. Grazie, Fiddlestick, di questi otto attacchi. Potevi darmi qualcos'altro? Una E? Un... No, eh? Ok. Tutto sommato nulla. Non ho usato pozze, niente. Ci sta, dai. Ok, io il granchio me lo faccio easy con Shaco. Ok. Ringrazio che non ho la Q. È inutile cesare via, anche se non ha vita a parte. Che cosa si aspettava? Cioè, se avessi sbloccato la Q, non dico che moriva, ma flashava. Sta V qua non sembra proprio sveglia. Cioè, come ti permette di andare in giro con 100 HP contro Shaco? Ecco, ma... Non sei una persona normale. Non sei proprio una persona normale. Poi come cazzo ho perso tutta quella vita? S'è fatta... Vabbè, s'è fatta ai campi della botlane, che giustamente fa fatica a fare. Non sto manco a mettere la guarda, tanto non mi invaderai mai nella vita. Se lo fa è probabilmente Superman, perché non ha modo di farlo. Non penso abbia modo di invadermi. Ok. Ma puoi solo scegliere come morire. Flash? Bravo. Bel flash. No! Non meritavo di... Vattene! Cosa fai? Come fa ad essere al mio elo questo? Come fa? Come fa? Come fa la Riot a pensare che quel coglione sia bravo quanto me? Che problemi ha? Che problemi ha? Ha maxato anche lei per sbaglio. Ha flashato gli attacchi base dei minion! Come si fa a fare così schifo al mio elo? E poi è ovvio che la gente lo vede e dice che fare da Plat a Smurf in Silver non cambia un cazzo. Ci credo, se i Platino sono questi, ci credo anch'io che i Platino sembrano degli sfigati. Sono degli sfigati. Questo è uno sfigato. Ho cambiato il nome a Panic! Guardalo, guardalo. Eh? Qua sta succedendo? Boh? C'è qualcuno che fighta da queste parti? Sento dei suoni ricorrenti qua in giro. No, ragazzi, non sono con lo Smurf. Questa gente qua probabilmente è Plat 3-2. Questa gente qua, ragazzi, che ci crediate? No, è vicino al Diamond. Sì, avete capito proprio bene. È vicino al Diamond. Grazie della clip, Tecchie. È giusto far vedere la merda in giro. Facciamo sì che la gente possa rendersi conto. What? Penso che lo sappiano che ci sono. No. Vieni, V, vieni. Ora, prese tutte e due lui, eh. Volevo fottere nemmeno una. Magari erano in mani più sicure. Almeno prendevo il Tiamat. Manco quello. Allibito, comunque. Allibito. Alli fucking Bito. Porca puttana. C'è un cazzo. Io non posso andare back e prendere il Tiamat perché le kill ha preso tutte e due. Sto sfigato, cioè io non ci credo. Rendetevi conto. Una kill mi estravia. Così andavo back. Prendevo il mio Tiamat. Una kill a testa. Anche io potrò snowballare. Invece no. Devo andare a scarpe in giro come i poveri. Per cercare dei soldi. Devo andare a delimusinare i soldi per il Tiamat. E bot muoiono. Ma Fiddlestick come fai a muodire nella loro base? Cioè se muori vuol dire che sei in svantaggio e che stai scappando. Come hai fatto a muodire lì? Mi cacciano in dei grab. Vabbè. A noi va bene così. E quindi niente. Raga questa gente qua è al mio elo. Cioè rendetevi conto. Vabbè. Ezal se muori però... Ah no eh. Sarà meglio. Non me fai incazzà. Pure te. Bard raccoglie le becchieri lì. Ma con che criterio stanno giocando pure in bottling? Non mi fai incazzato. Non mi fai incazzato. Non mi fai incazzato. Donna. Non mi la bianchillata. Non ho fatto manco in tempo ad ultare. Seppure ho smontato il coso della tastiera. Ma dimmi te. Il blu lascia Swain a sto giro Ci posso provare Cioè non è che lo prendo per fare il cattivo Lo prendo perché se tanto lo lascio non lo sfruttano Demo sto Swain per provo a fidarmi Non questo, non questo blu, il terzo, glielo lascio Purtroppo Shaco per gancare fa tanta tanta fatica E Fidestick, 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 per favore Ma che ca... Ah ma ho sbagliato il tunnel Ha fatto un tunnel orribile Guarda Grazie La box ha fatto un ottimo lavoro Il flash Regà questa gente qua ha il new elo, vi dico solo questo Io c'ho quattro assist Cioè teoricamente sto giocando anche molto bene Cioè anche senza teoricamente Sto giocando molto bene la jungler Su 7 kill participation ho 5 E sto anche gankando poco Perché insomma Non sono molto... Lei è molto facile da gankare Top è facile da gankare quando Kennen non pusha sotto torre A quel punto lì diventa difficile pure la top Suppongo che Vig ha anche la top E la prende lui Manca una killia di scorebile Vai Proviamo a prenderla T1 Lo sfotto pure C'è pure la copia Cos'è non la conti la copia Eh Oddio Fiddlestick Oddio Fiddlestick Oh mio Dio è vivo Oh mio Dio è vivo Fiddlestick Oh mio Dio Sapete che vi dico Ecco Mobility cazzo Ho già capito che qua Devo dare presenza nel team Prendiamoci Mobility Grande Fiddlestick Adesso guarda No 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 Non funziona così Sì Oh sì Ah Please assist Che cazzo l'aveva vista E l'emmosinare gli assist Che bello Quello non c'ha mana Spera non ci abbia le mani Grazie Eeeh Ciao Yasulo Eh Porco Ciao Sfigati Aiuto Ciao Sfigati Eh Guarda Io mi dileguo Prima che succedano brutte cose Quella bircherenis Dai ma povero Vincenzo Poi lo sfottete sempre Cioè anche io lo faccio Eh però C'è un rapporto diverso I go home È il tuo lavoro Fiddlestick romare Cazzo prendi Fiddlestick Sennò Bot non posso aiutare Quindi Ma poi io non ero nei guai Non so perché Cioè non ero nei guai Ero nei guai Ma non potevano aiutarmi Cioè E questo No No Guarda di là non puoi andare Bravo vedo che ti sei rassegnata Sparisci SPARISCI Via da qui Via proprio Torna a casa tua È migrato Rom Ruspa E te Bullizzo pure il blu ragazzi Guardate qua che bullo Proprio un bullone sono Eh cazzo Si è fatta l'herald E mo non è che posso fare tutto eh Cioè Se sono bottele Ad aggiustare i nostri due sfigati Madonna Fiddlestick Che cosa indecente Che è Di qua arrivano le ruspe Sono top Ok Vediamo Come prendiamo questo E questo E un'altra contro Ragazzi Controli in giungla Prendetele Ciao sfigati Grazie Jumping a clip Bravi ragazzi Fate le belle clip Cazzo Un bel buratello in chat Un buratellone Barboni siamo noi Oppure voi streamer Ehm Beh oddio Nessuno dei due Voi non siete barboni Perché Mi fate il sub Mi donate Quindi potete darmi soldi Io non sono barbone Perché li ricevo Quindi Ok Vediamoci questa Madonna Sembrava una bestemmia Madonna Sembrava una bestemmia Madonna Kennen Proprio Sembrava una bestemmia Madonna Kennen You have slain a mini This will be Ok Ok Mmm Non potevo interromperglielo In nessun modo Ho detto Se piazzo la box La box ci vuole troppo Non ce l'avrei fatta Purtroppo Ciò che posso fare È questo Kennen Sto tp Fa cariare Però Possiamo puntare A prendere di più Tutto sommato A questo punto Visto che è tpato Andiamo avanti Ma fidesti che non fa un cazzo Ezzar fa una kill e muore Vai provo la Trinity stavolta Nella nostra Italia Non c'è spazio per i campi Rob Ripkennen Vediamo la Trinity Buonasera Falcon Voglio essere bannato Paolo con 15k Non credo che lo sia Non ho la ulti Sono morto Non ho piazzato Ignite Vabbè l'ho piazzato su Yasuo Meglio così Yasuo cia l'Ignite Piatelo La ultima è sbloccata dopo Raga Non lo attacca? Avete visto anche voi Che non l'ho attaccato? O è la mia impressione? Ma poi sono gli stream con pochi Versi e solo follower E solo follower come me Ah 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 Boosted Animal Certo che anche Fiddle Non è proprio il massimo Però Però Non aveva la Q Evidentemente no Ce l'ha fatto quella cosa lì E poi basta Contro quel team Mi fa comodo il di Cosa stai facendo Ezra Porca puttana Beh Fatti smizzare da quelli Oh Nella serie mi faccio quelli Poi vado back Guardate Ezra come è messo Cioè guardate la vita di Ezra Ne valsa la pena Fare quella merdata che hai fatto E mo non può fare nulla E invece ha tirato una Q Galbar non possiamo farlo adesso Come facciamo Scusatemi Una bruttissima call A me non piace Sinceramente Posso Possiamo provare a shottarlo No Sta call fa cagare Sta call fa cagare E Fiddlestick fa ancora più cagare E questo è peggio anche Con che cattiveria è andato sulla mia copia Sta call era una merda Ripmatch Io ho provato a fare il massimo qua Sembo se lo fanno loro Si Sarà difficile Carriare questi Sarà un po' difficile Mi sono accennato a trinity perché Su di loro Li scoppio facilmente Quindi a trinity Può essere un ottimo item Ma ci sono un sacco di cose sbagliate Per esempio Ezra che fa sto campo E esce dal campo con un ottavo di vita Che boh Non so per quale motivo questa cosa Ma vai top Almeno farma top contro minion Speriamo non muori Una bella ward al bar Non ce la metto Ok ci dovrebbe essere qualche altra ward What the fuck Ora è una bella call Ora si che è una bella call Raga mi sfortuna Cancello io Bravi anche loro Che continuano a pushare Allora 760 Questa è stata una bella play Raga Questa è stata una cazzo Di bella play Che mi faccio Contro sti sfigati Potrei farmi Lo sterax Porca puttana Ma si Il problema è Cho'Gath Come non detto Ma noi cancelliamo tutti Raga Cioè Guardate Cho'Gath Fa un cazzo Ma non perché fa scrivere Ma perché non può fare granché Cioè lui Questo qua È un match up Contro il quale Lui fa fatica a giocare Probabilmente L'ho shotto 1v1 Cioè raga Ma vi faccio vedere Ma vi faccio vedere Cioè non so se avete notato I danni che gli ho fatto Vogliamo parlare Dei danni che gli ho fatto Cho'Gath un problema Cho'Gath è il champ Più inutile attualmente In questa team comp Insieme a Barb Anzi almeno Barb dà fastidio di ulti Venga ma come pensate Che possa morirci A Cho'Gath Ma le vedete le build Le vedete quanto sto avanti Cioè Cho'Gath sparisce Io Cho'Gath lo sciolgo Con sta merda che c'ha Non c'ha armor Non c'ha C'ha 30 di armor In più in totale Lei non la posso derivare Perché non c'ho la ulti Cioè loro come singoli Non possono far nulla L'unico modo che hanno di vincere È fare dei bei fight Sperare che i miei Alleati si addormentino Cosa Diciamo non troppo improbabile E questo è il modo Che hanno di vincere Quando ci addormentiamo Loro vincono E Potrebbe succedere Chi lo sa Potrebbe anche succedere Perché il corso è diverso Non è difficile È semplicemente Quello vecchio Perché boh Ero abituato a quello Ho messo il corso è vecchio Tutto qui Perché mi piace il ditino È bello il ditino GG Cioè ormai è È veramente GG Se non killam più Nemmeno Kennen È GG Ma che ca... Ma è il mio cadavere Dentro il muro Ok Sei lento come mia nonna Sì Tia Da... Non mi ricordo Sei in gioco Interfaccia Un bel tipi di Chogat Wow Ezzer Ezzer Avvicinati un altro po' Madonna Meno male Vito il Tave Rimorto Non dovevo morire io Sono morto dentro il muro Come un coglione E di conseguenza Sono morti tutti Rip Baron Rip tutti Perché la trinta Su Shaco E Wart Perché ci sono alcuni Matchup In cui non posso Shottare V E Yasuo Non li posso One shottare Di conseguenza È meglio avere un po' Di DPS Nel senso Non li one shot Ma grazie Alla trinta Risco comunque Ad ucciderli Abbastanza in fretta Poi guardate Che danni Cioè Boom Primo colpo Fa tanto tanto danno Principalmente per questo Vabbè il cooldown D'action Tutte le altre cose Forte su Shaco Quello pure Ovvio Mi servono dei soldi Ok Io purtroppo Penso di essere ancora Quello con più soldi Di tutta la mia squadra Di conseguenza Non penso Di poter fare molto Contro i minion Fammi vedere Sì No 14 gold È giusto È giusto È giusto 14 gold Allora qualcuno Sta facendo più soldi Di me Penso sia Kennen Visto che ha 200 di farm Potrebbe essere lui Ok Non so Come Come hanno fatto Chi la Yasuo Cazzo è successo Però Dove poter Shottare qualcuno Qui What? Manco mi ricordo Dove averla messo A questa Vi Fai un po' Cagare Non so se te l'hanno detto Che sei Bce Bce Is that you? Bce Is that you? Ma perché Mid che è top Abbiamo già la wave qua Vediamoci la top Fiderstick Non mi fa rincazzare Fiderstick Non mi fa rincazzare Porca puttana No 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 Ma Cosa è? Cos'è quella roba Orribile che ho visto? Fiderstick è un buco di culo Porca puttana È un buco del culo Fiderstick Perchè? Fai Cosa? Ma chi stavo colpendo? Chi? La coppia era morta Non c'era nulla Non ho messo ignite a nessuno Donna santa sto gioco Le tue si triggerano Per qualsiasi cosa Cioè non capisco Ma dove cazzo erano le box? La ulti Avevi la ult Cioè avevo ancora la coppia Da qualche parte Dovevi ultare Ah vedete il senso Dove ulti Ma che cazzo ne sapevo io Ma nemmeno ci ho pensato Non potrò minimamente Immaginare Ma poi scusatemi Ok c'era la box Ma dove? Ero qui Dov'è la box? Non c'è nessuno qui Cioè quella è la cosa Ci sarà stata una box Però deve esserci anche Che attacchi qualcuno sotto torre Cioè la torre Astorange Ok Magari c'è una box Che se la box è qua E attacca qualcuno qua Io non vengo ittato Deve essere sotto sta torre Lo so che se il risultato Erebbe tolto l'agro Lo so bene come funziona il mio champion Visto che lo gioco dal 2014 Però non capisco questa meccanica Del range sbroccato della torre Che evidentemente c'era qualcuno Nel range della torre Evidentemente il range della torre è altissimo Perché come vi ho detto Se io sono qua E una box si attiva Dall'altra parte della mappa Io non vengo ittato Deve essere sotto quel range della torre Non avendo nessuno vicino Penso che il range della torre Sia altamente sbroccato Eh non avevo la copia attiva Se mi ha traghettato Perché c'è una box Da qualche parte Troppo vicina alla torre Evidentemente Non si sa come Che poi è scusate Impossibile La torre Se ci fosse stata una box Vicina alla torre La torre avrebbe dovuto attaccare la box Che è possibile che la box Attacca qualcuno nel range della torre Senza essere nel range della torre È quello che non ho capito Regà Non l'ho proprio capito Regà ditelo che devo killarli tutti io Che cazzo Jumpy Il nemico che Il nemico Per far sì che la torre mi attacchi Deve essere sotto la torre Mi pareva fosse così È rusto per tutti Penso di sì Però a me pareva che il nemico Dovesse subire danni Sotto la torre Forse no Bisogna fare una prova Vabbè Non importa Non importa Calmiamoci Pensiamo alla partita adesso Allora Prendo questo Stavolta voglio giocarmela così Dopo me la guardo La clip Dopo me la guardo Fatto sta che sono quello di livello più alto di tutto il team L'unico al 18 Buono Ocean Drake Minchia Faccio un sacco di danni Regà Porca puttana Quanti punti mi stai su Shaco Pochi Perché lo gioco su tanti account Quindi insomma Madonna Mi hanno visto Sono scappati Terrorizzati Vai vai Lo sapevo che doveva prendermelo lui Ma non avevo dubbi Proprio Vi l'ha shotto No perché c'è altra gente Allora Ma che cazzo vuoi Figlio di puttana Tanto non lo sai Chi è il vero Shaco C'ho gatto Non può nulla contro me Se poi voi morite come dei coglioni Sono cazzi vostri Cioè a me lo interessa Sinceramente Io il mio lavoro lo sto facendo E anche egregiamente Donna che banda di sfigati Kennel sta addirittura Prendendo la base Madonna Ma ringrazio che voca rata Ma ringrazio che voca rata Anziché pingarmi Figli di puttana Ma pingatevi il culo Imparate a giocare Cazzo Doveste prendere un champion Per vincere da solo Siamo lì eh Siamo lì Cioè non è che sto vincendo Con tanto altro aiuto Fino a provo a contare Cioè Ega Madonna che tossico Come cazzo si fa Incapace di finire un gioco Ma ringrazio Soltanto grazie a me Se abbiamo vinto sta partita Cioè boh Ecco Shaco top damage No Shaco top damage Non deve esistere Perché io Ganko Faccio il gank E torno a farmare Siete voi che dovete Continuare a fare danno Ti sei fatto prendere in giro Di quella Ieri Sera facendoti dire Che la live Che avete fatto Era privata In quanto la live Non è Non è privata Per niente E il video Che avevi messo Si